Musica Peschereccio semi affondato nel porto di Fano avviate le operazioni di recupero coordinate dalla Guardia Costiera Nei prossimi giorni partirà l'inchiesta per indagare sulle cause della falla bordo Ghiaccio sulle strade, raffica di incidenti nella provincia pesarese, auto nel fosso e camion contro un muro di cinta a bellocchi di Fano Super lavoro per vigili urbani e pompieri Giovedì nella chiesa di Calcinelli l'ultimo saluto a Don Giuseppe Monaco Il funerale sarà trasmesso in diretta sul canale 17 di Fano TV Il rientro a scuola dopo tre mesi ha superato il test con meno assembramenti nelle fermate sui bus Benedetti commenta il sistema a retto come previsto Viabilità a Fano, domani parte la sperimentazione su Via Trave, Fornace e Monte Nerone Prevista è una mini rotatoria in versioni del senso di marcia Presentato a Pesaro il logo per i campionati europei di ginnastica acrobatica e aerobica Ricci della Dora, lanciamo un messaggio di speranza, ripartiamo anche dallo sport Buonasera e bentornati su Fano TV Come avete sentito dai titoli del nostro telegiornale La notte scorsa un peschereccio ha rischiato di affondare al porto di Fano Allora sentiamo tutti i particolari nel servizio di apertura che è stato curato da Letizia Marchionni È rientrato nel porto a seguito di un principio di falla a bordo Il peschereccio Angelo Padre semi affondato nel porto di Fano È accaduto questa notte quando presumibilmente a causa di un trafilamento d'acqua Che ne ha parzialmente compromesso la galleggiabilità L'imbarcazione, dopo essersi ormeggiata sulla banchina lavori Si è adagiata lentamente con la poppa sul fondale Ad intervenire sono stati i militari della Guardia Costiera di Fano Sul posto assieme ai vigili del fuoco e dalla protezione civile Si trova adesso ormeggiata per espletare poi le attività successive Quindi da parte nostra per capire la dinamica della problematica riscontrata Quali sono state le operazioni svolte? Abbiamo visto dei galleggianti essere calati in acqua? Sì, le operazioni svolte prevedono in questo caso la messa a mare per il confinamento Di eventuali principi di inquinamento, la messa a mare di due panne assorbenti Nello specifico, questo prevede la procedura Inoltre sono state avviate le operazioni di recupero dell'unità da pesca Coordinate dalla Guardia Costiera La rimozione dell'imbarcazione è in programma per domani mattina Nei prossimi giorni sarà avviata l'inchiesta per indagare sulle cause dell'accaduto E si terranno giovedì alle ore 15 nella chiesa Santa Croce di Calcinelli Accogli al Metauro i funerali di Don Giuseppe Monaco Il parroco deceduto l'altra notte all'età di 72 anni A celebrare il rito funebre che verrà trasmesso in diretta su Fano TV Sarà il Vescovo Armando Trasarti Dalle 10 alle 14.45 la Salma sosterà nella chiesa di Possa Vecchia Per permettere alla comunità di esprimere il proprio affetto e riconoscenza con una breve visita Incidenti a raffica oggi nella provincia di Pesore Urbino A causa del ghiaccio sulle strade Traffico rallentato ma anche un super lavoro di pompieri e vigili urbani Situazione critica questa mattina sulle strade della provincia di Pesore Urbino La pioggia caduta ieri mista al nevischio in alcune zone dell'interno E le basse temperature hanno generato una patina ghiacciata sul manto stradale Che ha provocato numerosi disagi Alla nostra redazione sono arrivate diverse segnalazioni di incidenti, code e rallentamenti Nella zona industriale di Bellocchiafano intorno alle 7.30 Un'autocisterna che aveva appena scaricato ossigeno stava percorrendo via Dino Vampa Quando a causa del manto scivoloso si è girata su se stessa andando a sbattere contro un muro di recinzione Il mezzo pesante con a bordo un 25enne di Napoli è rimasto intraversato sulla corsia di marcia opposta Poco dopo stessa sorte anche per un'auto, un appunto grigia guidata da un trentenne fanese La vettura è finita sopra il marciapiede e poi contro il muretto di contenimento del fosso Per fortuna non si registrano feriti Sul posto è intervenuta la polizia locale di Fano per i rilievi di legge Per chiudere un tratto di strada al traffico, il carroattrezzi e i vigili del fuoco L'intervento dei pompieri si è reso necessario non solo per la messa in sicurezza dei mezzi Ma anche per la fuoriuscita di gasolio dal camion a causa della rottura del serbatoio Le operazioni sono state coordinate dalla sicurezza ambientale A Pesaro invece sulla strada provinciale Trenta, la Monte alla Battese, due conducenti hanno perso il controllo delle loro auto Finendo nel fossato al lato della carreggiata Anche in questo caso gli automobilisti ne sono usciti illesi E intorno a mezzogiorno invece un ciclista è stato investito da un'auto All'incrocio tra via Nolfi e via Castracane nel centro storico di Fano Si tratta di un anziano di 85 anni che è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso del Santa Croce L'uomo che è sempre rimasto cosciente non dovrebbe essere in pericolo di vita Illesa invece la conducente della Opel, una ragazza di 24 anni E adesso agli aggiornamenti sul Covid-19 Resta alto il numero dei decessi nelle Marche Nelle ultime 24 ore sono morte 15 persone, di cui 4 della nostra provincia I nuovi positivi sono 291, di cui 85 a Pesaro Urbino Negli ospedali della regione ci sono 4 ricoveri in meno I pazienti in terapia intensiva sono 73, mentre quelli in semi-intensiva 144 Cambiamo argomento, con la ripartenza delle scuole Gli studenti sono tornati anche a salire sugli autobus La ripresa al 50% è andata bene, ha affermato Massimo Benedetti Il sistema ha retto come previsto Assieme alle aule, con la ripartenza delle scuole Ieri sono tornati a riempirsi di studenti anche gli autobus Con i 22 mezzi in più, i maggiori controlli Le fermate suddivise ed implementate e la capienza al 50% dei mezzi Si mira a contrastare gli assembramenti Un sistema che ha dato buoni risultati e che funziona Secondo la maggior parte dei ragazzi Anche se per qualcuno la situazione non sembra tanto diversa Rispetto allo scorso anno Sono molto pieni, quindi c'è sempre molta gente come prima Non è cambiato nulla C'è sempre anche la gente in piedi e la gente seduta Sono anche tutti vicini, non è cambiato nulla Ancora oggi è comunque il primo giorno, però abbiamo notato comunque una diminuzione nelle persone nell'autobus Cosa ne pensate anche di questo sistema delle fermate divise? È un ottimo sistema perché comunque diminuiscono le persone presenti nell'autobus E si distribuiscono abbastanza bene Rispetto alle prime volte sono diminuite Quindi rischiamo anche di meno di contagi Però comunque le norme vedo che vengono rispettate abbastanza bene, diciamo, frequentemente Perlomeno nel mio autobus sì Cioè le rispettano Forse qualcuno magari si siede vicino ad un amico Cosa che magari è sbagliata Cioè è un po' stancante anche perché poi con la mascherina è caldo E quindi non tutti magari la tengono proprio su A controllare i ragazzi per far sì che non si formino assembramenti alle fermate Oltre alla polizia di Stato e locale anche la protezione civile Il nostro ruolo è più che altro di sorveglianza così Di consigliare a chi non ha la mascherina di tirarla su o di mettersela Ma diciamo in generale sono tutti bravi Ci sono stati niente, qualcuno che magari glielo devi ricordare Ma la maggior parte vanno avanti bene insomma Ad un giorno dal ritorno in classe degli studenti delle superiori In presenza al 50% È positivo anche il bilancio del direttore di Adrebus Pesaro e Urbino Massimo Benedetti Siamo soddisfatti, ha dichiarato Il rientro è andato bene come avevamo previsto In intera provincia abbiamo messo in pista questi altri 22 autobus E diciamo che ci riteniamo piuttosto soddisfatti e soprattutto tranquilli Ieri e oggi il sistema ha retto così come avevamo previsto Abbiamo trasportato tutto con l'assoluto rispetto delle norme Abbiamo delle segnalazioni e comunque abbiamo rilevato che in alcune piccolissime tratte Abbiamo raggiunto quasi la capienza massima Stiamo già prestando degli interventi proprio per distribuire ancora di più i carichi Magari la percezione è un autobus pieno Non c'è il metro di distanza l'uno dall'altro Ma non è quello che dicono le norme Le norme dicono che i mezzi possono essere riempiti al 50% E quindi sicuramente il distanziamento è improponibile Per questo comunque si sale a bordo con la mascherina Stiamo sanificando le mani, disinfettando e prendendo tutte le precauzioni E a due giorni dallo screening su studenti e personale scolastico delle superiori Sindaco Matteo Ricci lancia un appello ai ragazzi Finalmente siete tornati in classe anche se in presenza al 50% Da giovedì potete fare il tampone veloce per avere maggiore sicurezza in classe, in famiglia e tra amici I minorenni dovranno far compilare un modulo dai genitori Campus scolastico, mengaroni per le scuole del centro storico Istituto Cecchi e alberghiero Santa Marta Questi sono i quattro punti individuati per lo screening Aderite insieme alla vostra classe Conclude Ricci, è un'operazione molto importante Che vi consentirà di tornare a scuola insieme e nella massima sicurezza E adesso torniamo a parlare di viabilità Perché domani a Fano prende il via la nuova sperimentazione in zona trave Previste una mini rotatoria ma anche inversioni del senso di marcia Parte domani, 27 gennaio La sperimentazione di due mesi che prevede l'inversione del senso di marcia di via della Fornace di Fano Che sarà quindi percorribile dall'interquartiere in direzione Fenile e di via Montenerone Che tornerà al precedente senso di marcia come richiesto dai residenti Lo comunica l'assessore alla qualità urbana Fabio Latonelli Che afferma l'obiettivo è quello di veicolare il traffico della zona rallentandolo I lavori di moderazione del traffico coinvolgeranno anche via trave Nell'incrocio tra quest'ultima e via della Fornace infatti sarà costruita una piccola rotatoria in New Jersey Mentre lungo la stessa via, lato cimitero, nei pressi della rotatoria Sarà realizzato anche un restringimento della carreggiata Questi interventi sono molto attesi dai residenti di questa zona Perché più volte hanno lamentato la velocità delle automobili Cogliamo questa occasione appunto per fare questa sperimentazione di questo progetto Che è un po' di tempo che ci stiamo dietro Abbiamo fatto anche degli incontri con la cittadinanza Facciamo questa prova in cui noteremo se la fruibilità delle automobili e dei ciclisti migliora E ad aprile inizieremo con i lavori più strutturali In cui aumenteranno i restringimenti di carreggiata lungo tutta via trave E stabilizzeremo la situazione di via Fornace e via Montenerone In via Fornace riasfalteremo tutta la strada La ristringeremo la carreggiata e lasceremo una corsia ciclabile sul lato sinistro della carreggiata Come è attualmente Il costo del lavoro è circa 270 mila euro Sono fondi del Ministero Abbiamo partecipato a un bando sulla sicurezza stradale E quindi siamo riusciti ad ottenere questo finanziamento A partire da domani cominceranno i lavori per il cambio della segnaletica verticale E per l'installazione dei New Jersey Invitiamo quindi tutti i cittadini a prestare attenzione Ha poi aggiunto l'assessore Tonelli L'amministrazione ha molta attenzione sulla viabilità Inizieremo a vedere questi tipi di interventi Perché vogliamo far diventare le zone residenziali delle zone 30 L'indirizzo dell'amministrazione è quello di mettere in sicurezza i pedoni ciclisti Rallentando la velocità delle auto No alle barriere fonossorbenti alte fino a 8 metri lungo la linea ferroviaria È quanto ribadito oggi dall'assessore regionale Stefano Guzzi Durante una videoconferenza con RFI Assessore, le contesta la tipologia delle barriere proposte da rete ferroviaria italiana Per quale motivo? Questo progetto di porre delle barriere antirumore lungo le ferrovie italiane E anche qui nel nostro territorio È vecchio ormai da più di 10 anni Io mi ricordo ne parliamo quando ero sindaco a Fano E già allora avevamo serie perplessità Perché queste barriere alte fino a 8 metri Di fatto in una zona come Fano Pensiamo a Gimarra Di fatto dalla frazione del centro abitato non si vede più il mare Ma questo come vale per Gimarra come Fano Vale per tantissime altre località litoranee Tant'è che io oggi nella conferenza delle regioni Alle quali ho partecipato Ho espresso serie perplessità E mi hanno dato ragione anche l'assessore dell'Emilia Romagna e della Puglia Però poi nella votazione finale sul documento Tutti si sono invece allineati su questa proposta Che di fatto dà un assenso a quello che i ferroviari dello Stato vorrebbero fare Io come assessore della regione Marchi invece ho votato contrario Perché ho chiesto che venisse inserita una frase Che permettesse di concertare regione per regione le varie tipologie di intervento Invece non è stata inserita questa frase se non una raccomandazione Diciamo di avere un'attenzione a seconda dei luoghi dove vengono installate Non mi è bastato Adesso vediamo, speriamo che sia possibilità comunque di reintervenire Perché io repito un intervento di questo genere Sinceramente troppo, fortemente invasivo Soprattutto per le zone litorane che caratterizzano il nostro territorio E adesso ci spostiamo a Pesaro dove ieri è stato presentato Il logo dei campionati europei di ginnastica Che si svolgeranno al Palace Cavolini a fine settembre E covid permettendo Angelica Panzieri Dal 20 settembre al 10 ottobre 2021 Pesaro diventerà la capitale europea della ginnastica In queste tre settimane il rinnovato auditorium di Viale dei Partigiani Sarà la casa dei campionati europei Il primo di ginnastica aerobica e a seguire Due appuntamenti con la ginnastica acrobatica Nel Palazzo Comunale di Pesaro è stato presentato ufficialmente Il logo della manifestazione Realizzato da due studentesse del liceo artistico Mengaroni Il palazzetto sarà pronto per questa competizione Anzi per queste competizioni Parliamo di campionati europei di ginnastica acrobatica e aerobica Tre competizioni, 20 giorni Avremo la possibilità di avere tanti atleti nella nostra città Grazie al lavoro di squadra tra Comune di Pesaro Federazione Ginnastica d'Italia European Gymnastic Federation Comitato Organizzatore Locale di Esa Tour Group La stagione turistica pesarese si allungherà di un mese Con l'arrivo di circa 700 atleti ogni settimana Che riporteranno la città al centro della scena sportiva nazionale Noi non ci stiamo fermando dal punto di vista degli investimenti E dalla programmazione del futuro Ovviamente ci sono ancora tante incognite Però speriamo davvero che per l'estate Si possano ospitare grandi manifestazioni Magari con alcuni accorgimenti Per questo i lavori al vecchio palazzetto dello sport Sanno andando avanti Ci sono tutti i presupposti Così ci dicono all'azienda che sta facendo i lavori L'assessore Belloni I tecnici Di poterlo riaprire per il Rossigno Opera Festival Che si svolgerà ad agosto E per poi i campionati europei di ginnastica aerobica Quindi siamo fiduciosi E ovviamente i lavori vanno avanti Sperando davvero che per quel momento Ci saremo liberati di questo maledetto covid O almeno lo avremmo ridimensionato pesantemente Il logo è stato realizzato da Eleonora e Miriam Due studentesse di grafica del Mengaroni Coordinate dalla loro docente Isabella Galeazzi È venuto bene, piace e ancora ci piace Perché la meraviglia è che le ragazze attualmente frequentano la quinta Ma questo lavoro è stato fatto in quarta Quindi vogliamo dire che sono state proprio brave E dietro a tanta sintesi Tanta bellezza, tanta lettura chiara Tanta funzionalità di uso C'è altrettanto lavoro Però per noi è stato un piacere farlo È stato un lavoro che ha impiegato molto tempo Per i bozzetti, per le varie tecniche Che abbiamo provato per dare più senso di movimento E alla fine abbiamo scelto il pennello perché dava più senso di scioltezza del movimento È stato un lavoro molto di gruppo Abbiamo lavorato molto insieme E abbiamo sempre fatto tutto insieme Tra il progetto e le varie prove tecniche E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale Tra poco le previsioni del tempo E poi ci sarà una nuova puntata di Guarda chi c'è Dedicata al settore immobiliare tra covid e piccole riprese Buona serata con i nostri programmi Arrivederci